Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella trentatresima puntata della serie Terzisti. Oggi siamo qui con... Un buon esame, ciao a tutti. Prego, ciao a tutti. Un buon esame, ciao a tutti. Allora ragazzi, stiamo in semina di rape. Oggi... Come rape, oh! Eh, rape ronzolo. Che roba è? Eh, non è rompito il cartone animato? No, rape! Eh, rape, in inglese è la colta. Ah, posto. Vi faccio vedere cosa sta facendo quel genio di moresame. Allora, qui dietro di me potete immaginare che muccio di barabba bietole che c'è. Saranno trentamila litri a meno. Trentamila. Trentamila per uno. E sta raccogliendo le bietole. Come vedete ha finito, in questo esatto momento, un... Niente, perché non è ancora finito. Ma se si possono fare le barabba bietole, facciamo le barabba bietole. Ah, eh, sai che ci... Ci stavo pensando... Si può! Ma come le... Ma come le barabba bietole? Ma che cazzo stai... Presti le barabba bietole? No, penso ti farei sacchi, non lo so. Ah, boh. Ah no, ti fa le casse, che sto dicendo? Ti fa le casse, con le barabba bietole fa le casse. Dan, allora me lo vendi? Non ce le faccio. Non dire? 120.000 euro. Sì, 120.000, si parla di 130.000. Eh, appunto, se tu lo fai nuovo ti costa 130.000. Se lo compri una mese, sono 10.000 euro di meno. Lo so tenere da 85.000. 100, marito, 100.000. 100.000, eh, ma perché poi io me lo devo ricomprare un altro. Eh, allora combo un nuovo, no? No, no, aspetta. Mi va bene... Mi va bene per 100.000. 95. O 100.000 o niente. Perché non posso scendere, perché mi devo comprare un altro trattore a posto suo. Se no scenderemo. Mi può dare 5 minuti per pensarci? Va bene, ti devo tutta la puntata. Ma dai, faccio un acquisto anch'io, va. Va. Eh, dove cavolo sta, però? Guarda, qui sono molte all'80. Per chi non ha se, senti all'80, sta per il suo nome. Eh, sì, ciao. Stamuera, sono due di partesimo. E ti all'80 è il suo, si può dire. Sì. È il suo nome. No, no, allora... Ti all'80 è il nome del battesimo. Invece Samuele il nome del suo trattore. No, a parte di scarti, ti all'80 è il nome del suo trattore. Personale, anzi, l'omezzo del suo nonno. Così si chiama. L'omezzo. Giusto? Ma tamburrini, hai aiuto a maniaco? Hai aiuto color umane. Non è... Non nominale. Già che stasera non è ancora uscito il discorso. Ecco, quello che... Prima sono entrato nella sua mappa. Per aiutarlo un po', c'è scritto... Hai aiuto l'amore? Massimo, due volte all'anno, Massimo. Tutti i giorni sto là. Massimo, due volte all'anno. Massimo. Massimo, due volte all'anno. Massimo, due volte all'anno. Io porto salte pide. No, io li porto. Io, ma... Ci rendiamo conto di quanti soldi spende per via... Sarai andare ormai, amico. Quanto a po'. A o. Ma, saranno pericolosi. Sì, ma... C'è, insomma, ce ne vuole un bel po', eh. Siamo andavano a fare il tempo. Siamo andavano a fare il tempo. Per fare. Parapel negozio. Anche io dovrei fare le robe con il negozio, ma... E' che vuole a fare il negozio, ma... E' che vuole a fare il negozio, ma... E' che vuole a fare il negozio, ma... Cosa ne pensa? Cosa ne pensa? Cosa ne pensa? E' che vuole a disseminare il campo. Quindi, cinque minuti. Hai deciso? E devi ancora pensarci. Devo ancora pensarci, perché sto qua... E' una cosa che ci vuole pensare a fattube. Perché, ragazzi, se noi diamo quello, ci arrivano centomila. Con centomila andiamo sui... Duecent... Sui trecentomila... Centotanta e passa mila. Con cento e tante e passa mila... Cosa ci possiamo prendere? Mi servirebbe un mezzo bello potente... Sui trecento cavalli... O due ottanta, giù di lì. Un otto e ventotto! Questo otto e ventotto quanto mi costa? Due quaranta sette. E questo... Ma perché mi costa di più con la serie vecchia e con la nuova? Eh, qui c'è quel quadro che non costa. A me piace di più con la vecchia, però. Grego, tu sei nel server? Sì. Passami i 6500. Vabbè, prenderemo con la vecchia che poi... Quanto c'è di differenza, abbiamo detto? Questo me ne viene... 6500. Come lo voglio io... Verrebbe... Fatto. Verrebbe 251. Invece questo, come lo voglio io... Non so quali ruote mettere, poi ne mettiamo una a caso. Eh, sono 25.000 euro di più. 25.000 euro per avere un mezzo più vecchio. Grego. Quando è che me lo dai in prova quello nuovo? Cioè, mi dovresti dare in prova quello nuovo e quello vecchio tipo... Alla prossima stagione di lavorazioni. Per vedere la differenza, se ti va. Ah, oh, muscle fender, devo mettere default manual, su 718, default manual, off, su 718, non te lo compri. No, sto scherzando. No, sto scherzando. Se lo vuoi realisti, ti metti vario. Anzi, fanni, fanni default gearbox, ne. Guarda dopo con le marci, eh. No, ne. Ti mette transport e vidiuti. Invece se fai vario ti metti i e lo. Devo mettere default manual? No, ne. Devi mettere... Cioè, quale 718? Quello modo o quello originale? Quello originale e quella mod? Quello mod? Mettici... Default vario. Lo colore e metto questo qua. No, quell'altro. Tanto ti costa di più. 718. Già in partenza, un 716 ci costa 164.000 euro. Quindi, niente che ti compri lo mezzo mio. 130.000 euro. Dan! Dimmi. Ho finito il 48! Eh, va bene. Ah, è un'ora che ci sto dietro. Eh no! Pento la roba, ma... Non me le ha raccolte. Dan, te lo compro a 95.000. Me lo compri? A 95.000 euro. O 100 o niente. Te lo dico subito. Sì, ma per 5.000 euro non diventi... Appunto. Samo, per 5.000 euro non diventi po'. La stessa cosa per te, eh? Facciamo 97.5. Appunto. Ci troviamo a metà strada tra l'uno e l'altro. Stiamo al posto. Daver gentil'uomini, 97.5. Va bene. Ah, passami da l'ora. E chi ha fatto te lo porto te lo io. Posso dargli l'addio? Eh, vabbè. Eh, vabbè. Fammi ci dare l'addio. Dove stai? Ma... E' mo' che finisce più, ecco, ira. Ma eccolo. Bello il mio trattore che... Ma non sei stato con me neanche per una settimana. Ma porca miseria. Ci sono misto 30... 33 mil... Ma che... Ma no! Ma chi me lo fa fare? Perché ci devo rimettere a 30.000 euro? Questo trattore va tanto bene. Vabbè. No! Ultima richiesta. Lo vendi o non lo vendi? Daniele, un attimo. Dammi un attimo per pensarci. Cosa faccio? Lo vendo o non lo vendo? Eh, se ti servono i trattori più... E' sotto la seminatrice e poi a quel punto ci posso mettere anche il massi. Cioè, a me mi servo un trattore grosso. Se prendo l'erpice da 8 metri mi servo un trattore grosso e non c'ho i soldi. Eh, beh, decidi che sacrificare. I massi... E' più vecchio. Poi posso usare lo sotto solo la seminatrice, quindi diciamo che sacrifico il massi. Il... il... John Dierky. Mi dispiace. Samu! Mmh. Prometti molo che lo tratti bene. Ah, finchè non ci metti mali per chiunati. Promettilo che lo usi solo e desclusivamente tu. e questo non devi dirla a me eh ci metti la np owner e via eh sì ma grego e ademini quindi gli farite questo ah non c'è molti poi ciao eh ma se li monta su giandieri o poi monta su fast track da me un attimo siamo che devo vendere quello e cioè finisco due passate di semina vendo quello vendi quello che l'erpice che c'ho attaccato dietro io devo vendere il sottore peccato ti sto mettendo che fetta ah io sono fetta tu quale hai comprato? ce ne sta tipo due io ho comprato quello nuovo non quello che c'era già da prima eh quello che c'ha l'immagine figa sì quello più a destra non quello più a sinistra ok ho capito se volete tirare sul tempo fate pure le forche c'è io gli arrabbe? fino a quando? fino alle 6 a che ora apro sto alle 7 eh 7 e mezzo alle 7 e mezzo te li passi stordi dentro? eh sì mi ma le burpe pietole sono in crescita beh vabbè mii i vabbè 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 domanda e come iscrivete maria a me vai di guarda a trentanove a me i trenta ma che è che siamo passati a me e diciannove nel treno bello farming ok ore e trenta anche a me ma io sono l'unico giusto fa fa quella gata oltre che era giusto pure 17 30 rai e riusciti a te 30 356 alla che si sarebbe è stato bello la tecnici una settimana dovendo è parte tecnici è di 7 mila euro e mia 7 mila euro ma è stato per il mio amore è tutto il traffico ma se la teme da 4 e la dimensate mila e cinque e tutte ma perchè l'armi sempre di più e passare per me noi almeno non ci rimettiamo ma siamo dei veri ma benetone cos'hai lei acquistata questa roba qui o lei presa noleggio ma lei aggiunta allora amica serve da porti ecco ma se la prende noleggio che è che paga romano o pocciolo che io mi metto se vada di tratti addio trattore guarda la sua solitudine no aspetta aspetta addio quando è a me già allora io non p2 p3 p4 posso vendere il corpo con trasmission default vabbè io vedo io lo chiedo non mi rispondete 7 mila scena compra milleotto a me me ne viene milleotto e da greco mille nove e adere milleotto milleotto a te metto a pagina della fina l'invento era milleotto io te l'ho dati ho già fatto fuori mi stavo spaventando ho detto ma l'ho venduto il giorno no volevo portate le vie prima che te ne accorgessi eeeh ho otterrato i freni un po' troppo forte scusa no ma Samu fortunato di trattarlo bene eh no ma che problema c'è Samu su questo mezzo ha scappato a tutto ma non ce la fa vabbè e Samu mi insulta adesso scusa Samu mi perdoni ma ecco il perché ma l'hai cugnato contro il cartello eeeh basta cugnato aspetta che prendo il pellet non lo chiamassino lo cazzo vuoi a niego sta madonna da nessuna parte perché io faccio così non vado da nessuna parte ecco intanto che ci sei lasciamolo lì dentro va no e io ti volevo far prendere velocità oh la basso sta indietro la macchinetta per le varie pietole si ok che devo devo fare una modifica e dai che mi hai girato è vero che c'è 58 litri su questo e l'altro? l'altro pieno un golbole male eh just, just, forza Daniele quindi fai palla a tante le varie pietole esci ok oh 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 ho preso troppa velocità schiaccia, tieni schiacciato il punto Daniele il punto della tastiera che posso combattere, c'è idea da per caricarli quelli? o il legale? eh mezzi bug che corpo sei fatto? io niente, hai fatto tutto a te c'è il video che lo prova aspetta un attimo che te li cargo eh no aspetta un secondo va là aspetta che mi calma perché che tiro aspetta oh, speriamo di azercarci lo colore la prima botta che colore è? oh, è caduto anche ai piedi, guarda che profi sono guarda, prendo questo palo di mano e guarda che Daniele si fa no, 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 no era il partito bomba oh, ci senti certo oh, io non so che verde mette per... chi è che mi ci ha mandato su sopra che verde mette devi mettere l'ultimo in basso a sinistra più... cioè l'ultimo in basso a sinistra poi uno a sinistra in basso a destra e poi uno a sinistra almeno dovrebbe essere il più simile che schifo siamo è schifo eh oh, meglio di così porta fattori petede movete cos'era quel... è la porta come vuoi la porta allora noi ci abbiamo 288.887 euro oh, mi posso far da... mi ridugendo dall'atimi? ecco, io sono speso i soldi ma non mi ha fatto... cosa? mi posso far da... mi ridugendo dall'atimi? perché? eh, perché sono speso e non ero colore giusto eh, quante volte l'ho cambiato io il colore 516 me lo son pagato eh, no, non te li fa herdare perché io sennò anch'io dovrei farmi ridere non per cattiveria, eh, ma... per par condicio io sto, io sto oh, che bello è se potai parafanghi no, no, non devi togliere... no, che schifo, lo cattarmi ma è bellissimo che bellissimo ma c'è, c'è pare che ci hai messo l'affari davanti a tutti i paraplegici ma che gli fa parafanghi no, no, per loco ma che gli fa... ma che gli fa... ah, parapleghi allora, io mi devo comprare sulla categoria coltivatori spostiamo spostiamo tutti i soldi quanti abbiamo? 288 me lo compro 828 se riesco a comprarmi 828 me lo compro me lo porto a casa adesso taci palà ma che targa di merda c'è sto trattore? grego prendi un attimo a noleggio il lotto 28 con mix len xm27 quello che c'è la foto mi sembra vero quello vecchio con le xm27 ma è vero? si eh? eh ma si è uguale tutto il resto è uguale basta che prendi che c'abbia le xm27 e poi prendi ne prendi un altro che ce l'ha quelle altre salvedemi ma che crash adotto ecco e poi prova a prendere quello che c'ha le axio bib 2 si si appena fatto eh io sto io sto ah io prendo le axio bib 2 ok puoi darle indietro grazie quale? tutti e due puoi darle indietro effetto nebbia default vario ma la nebbia però da fastidio mi sa se lavori di notte no? si dà un fastidio all'effetto nebbia ma che me ne frega ah lumezu sto pigliato l'828 ecco vieni qua che mi servono a te due no io c'ho 12.000 euro che vuoi? allora devo chiudere i pannellini che mi fanno altamente schifo come si chiudono? non dimmi che non si possono chiudere non dimmi che non si possono chiudere ma rabbio apri chiudi porta non si possono non è vero non può essere non può essere vero semplice apri chiudi sollevatore frontale ma non possibile che non si possono aprire o chiudere owner nobody no infatti disabilita arresta ic dai ma non si possono chiudere ma che schifo si e ha pure il cambio cvt no nemmeno il oh merda si fammi fare 10 pallet mi sa che ho sbagliato un pochettino a prendere il suo trattore devo prendere dell'altro al posto di il suo trattore anzi andiamo un attimo a casa potevo spendere meglio i miei soldi sapete va bene ragazzi farò qualche compra vendita per cercare di tornare un attimino in positivo io ben ringrazio io ben ringrazio per la visione da ten buon esame prego samuel è tutto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti buon santo stefano è santo stefano